buongiorno a tutti allora proseguiamo con le schedine bollettine del gigione con il campionato francese anche qui vado subito a inserire campionato francese anche se ho già messo le posizioni delle varie squadre ma anche qui c'è da decidere alcune cose perché allora se per la champions ormai è tutto deciso c'è ancora in ballo la questione europa league e conference tutte e due perché le ci sono tre squadre barra 4 ma più che altro 3 che sono divise da un punto solo due sono a pari merito e una punti in più quella che ha un punto in più va in europa league le due a pari merito vedono il re favorito sul monaco probabilmente per lo scontro diretto perché o anche per la differenza reti perché la differenza reti vede nettamente favorito il re che ha segnato più del doppio c'è una differenza reti di più del doppio sul monaco 20 29 contro più 13 del monaco ci sarebbe anche lione che ha 62 punti che nel caso in cui rene e monaco dovessero perdere loro vincere finirebbe a pari punti con le due le altre due squadre e a quel punto scatterebbe la classifica vulsa e in quel caso l'unico a godere sarebbe il lille che anche in caso di sconfitta avrebbe garantita l'europa league la champions è già decisa pari san germain di lens andrando in champions l'olimpi marsiglia andrà in champions ma dovrà fare il preliminare e sapete benissimo che il preliminare è sempre un terno all'otto è vero che le squadre francesi evitano squadre italiane tedesche spagnole inglesi il che vuol dire le rendono tra virgolette favorite per andare però poi affrontare una portoghese un rapporto benfica poi affrontare adesso non so se probabilmente porte benfica no però comunque poi affrontare una portoghese un olandese perché sapete benissimo c'è il girone campioni quindi tutte le squadre che hanno vinto lo scudetto della loro nazione si affrontano tra di loro quando si arriva all'epilogo perché spesso e volentieri tante squadre che hanno vinto lo scudetto della loro nazione se dalla loro nazione magari con un ranking due fa basso partono addirittura neanche dalla champions ma già dall'europa league se non dalla conference e quindi si devono accontentare tra virgolette anche se sono campioni o magari fanno il pre 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 eliminare e partono con il preliminare di champions già tra due tre settimane penso che inizierà dopo penso è verso fine giugno più o meno poi guarderò anche quello da evitare che poi mi scappa come la questione della lotta per venire in serie b della play off e play out di lega pro che purtroppo mi sono scappati quindi abbiamo le sfide per quanto riguarda conference d'europa league tutto ancora in divenire con tre squadre in un punto e poi c'è la nat o ser chi andrà in seconda divisione serie b francese chiamatela come volete insieme a troia cioè anche stranate ossa ormai sono solo loro due che si giocano le ultime chance di salvezza con lo ser con due punti di vantaggio sul nato ma è nata una partita tra virgolette più abbordabile rispetto allo ser però bisogna vedere cosa fa un'altra squadra si gioca alle 21 ragazzi si tutte insieme appassionatamente alle 21 anche qui i pronostici non sono facili perché dipende sempre dall'umore delle squadre eccetera eccetera si parte subito con agiaccio marsiglia l'agiaccio già retrocesso 18esimo 19esimo mettetelo dove volete visto che agli stessi punti del tuo ma lo mettono alle spalle del tuo probabilmente o per lo scontro diretto per la pessima differenza rete addirittura meno 52 contro il meno 36 del tuo ma cambia poco solo è una squadra retrocessa gioca in casa col marsiglia terzo che non anche lui non ha più nulla da chiedere al campionato quindi e qui potremmo assistere una partita squallida in cui le due squadre non giocano e fanno un 0 a 0 da oppure una sfida bella ricca di gol in cui le due squadre entrano in campo vogliono divertire il laiaccio vuole salutare comunque il campionato e i suoi tifosi della massima serie francese in attesa magari di riprovare a tornare in serie a tra un anno della league one tra un anno il marsiglia anche lui non è che può dare lì e dire prego vincete pure che a me non me ne frega la beata giovanna quindi metto un 1 2 ma questa è una partita da tripla poi è logico ragazzi miei se il marsiglia fa il marsiglia non c'è gara l'orient strasburgo ma anche questa altra partita inutile strasburgo già salvo l'orient decimo che non ha nulla da chiedere al campionato però vorrà salutare i suoi tifosi con una bella vittoria quindi metto 1 oxer l'ex lo ser si sta giocando col dart la salvezza il lens è già sicuro del secondo posto quindi potrebbe anche fregarsene la ciolla come si suol dire lasciar vincere l'osserva e farlo salvare però io spero e mi auguro della professionalità dei giocatori dell'ense quindi metto x2 che magari pareggiotto salta fuori ma mi auguro che non gli mettano lo straccio il tappetino rosso e lasciano vincerlo se poi non so il rapporto che c'è tra l'ense dance perché sapete sempre anche quelle sfidile tra squadra no che magari c'è la squadra che ti sta un po sui testi e quindi se hai la possibilità di farla finire in serie b lo fai però mi arrischio l'is 2 pari san germain clermont metto un 1 perché penso che il pari san germain vorrà salutare i suoi tifosi con una bella vittoria dopo un campionato più tribulato di quello che ci si aspettava perché davamo tutti per scontato alla vittoria del pari san germain ma non delle ultimissime giornate ma con almeno un mese di anticipo lo dico a pasqua però vista la differenza tra pari san germain delle altre squadre vediamo ad alta al girls il dan deve vincere l'angas ha già retrocesso è ultimo in classifica eccetera quindi quale migliore occasione per il dance per provarci perché sapete benissimo dipende molto da cosa succede tra usare l'ans l'ans non la gioca e la usare vince il lampo vincere anche 8 a 0 con l'angas ma è il league 2 quindi metto l'uno perché è un risultato obbligato per il dan non può esserci altro risultato per lui se vuole salvarsi quindi metto l'uno e vediamo cosa succede l'angas è una squadra che anche se per retrocesso eccetera ultimamente forse anche perché sono lì più liberi mentalmente se la giocano sempre ci provano almeno poi vada come vada race montpellier partita inutile partita inutile tra undicesima e dodicesima non hanno nulla da chiedere al campionato il reims a 51 punti il montpellier 47 la zona europa è a 65 quindi ho messo un 1 x e vediamo che succede monaco tolosa sesta contro tredicesima monaco che deve vincere ragazzi lui ha solo la possibilità di vincere vedere poi cosa farebbe quindi uno fisso tolosa che non ha nulla da chiedere al campionato e tredicesimo tranquillo felice contento salvo tra l'altro andrà l'anno prossimo a giocare l'europa league avendo vinto la coppa di francia quindi stanno festeggiando ormai da due settimane la vittoria da due settimane no perché la finale è stata a fine maggio però da una settimana la loro vittoria in finale sulla da 5 a 1 se dover quindi monaco tolosa 1 inizia lione come vi dicevamo il lione ancora una little little chance di andare d'europa proprio piccina picciò deve sperare in un'ecatombe totale di monaco e red per finirli a pari punti e poi vedere la classifica munza come inizia naturalmente non vorrà salutare l'ultima giornata di serie a anzi di riguardo con una sconfitta quindi ho messo un 12 anche perché magari se da monaco e soprattutto della gara dopo il re del monaco sta vincendo il lione probabilmente mollerà subito il colpo elisa potrebbe anche approfittare capite che se alla fine del primo tempo lione cioè buona coerenza vincendo 2 a 0 e lione non sta più di anche lì a spattersi più di tanto perché possibilità 0 breast red breast salvo quattordicesimo tranquillo red che ha bisogno di vincere per andare sicuramente in conference poi bisognerà vedere cosa fa il lille però loro per andare sicuramente in conference devono vincere e di per cui metto un bel 2 fisso e infine tua lille ragazzi via il tuo ha già retrocesso il lille ha bisogno dei tre punti per andare in coppia in europa sicuramente sicuramente perché ha un punto in più di rene monaco quindi anche qui metto un bel 2 poi o del calcio tutto può accadere di squadre retrocesse che hanno messo in crisi squadre più titolate facendogli perdere scudetti o europa è pieno il mondo cioè piedi sono piedi gli annali scusate però credo che punto mi fermo qua perché mai dire mai detto questo mi sono dilungato troppo però era giusto dare un attimino anche la situazione del campionato francese andiamo a vedere la schedina numero 2 quella alternativa ajaccio marsiglia gol dato a 1 85 lorien strasburgo gol dato a 1 e 63 oxer lens over due e mezzo dato a 1 e 68 pari san germain clermont gol dato a 1 e 65 sapete che il pari san germain il suo golletto lo prende quasi sempre l'ha preso anche settimana scorsa 1 a 1 se non erano lo strasburgo quindi datt hangers gol a 1 e 77 perché credo che l'angas comunque vorrà salutare il suo campionato il liguano almeno segnando il gollettino della bandiera contro il nante e penso che abbia tutte le carte in regola per farlo un gol poi logicamente il da credo che farà la partita della vita quindi 3 a 1 un punteggio così potrebbe uscire tranquillamente rain small peli e mi arrischio gol più over dato a tre gol più over 3,5 dato a 2 15 perché mi ispira mi ispira credo che queste due squadre libere da qualsiasi condizionamento libere anche di poter giocare tranquillamente senza pensare alla classifica di niente vorranno salutare con una bella partita al loro campionato tranquillo e quindi mi arrischio gol più over 3,5 buona cotolosa gol più over dato a 1,70 nizza lione gol più over 3,5 dato a 2,25 perché qua credo che ci divertiremo parecchio perché al nizza non penso che lascerà al lione prego accomodatevi vincente provate ad andare in europa no e lisa vorrà vincere lione vorrà vincere quindi dovrebbe venire fuori una partita bella scoppiettante poi magari finisce 2 a 2 pareggio che non serve a nulla però non si sa mai soprattutto magari se lione va 2 a 0 poi le altre stanno vincendo e negli ultimi minuti sbraca e lascia lascia pareggiare il nizza per non fargli perdere l'ultima gara di campionato brest red gold dato a 1,68 perché comunque il brest in casa si è sempre fatto rispettare e tra lì il gol dato a 1,75 perché comunque il tuo a non regala nulla anche se ormai retrocesso eccetera la sua partita la sua onesta partita la vorrà fare e non vorrà salutare con 1 0 4 per dire ai suoi tifosi anche perché già sono retrocessi non vorrei che poi magari vado in escandescenza che cosa detto questo ragasoli anche il campionato francese termina qui come previsto pari san germain l'ha vinto viceversa in liga ha vinto il barcellona e nessuno se l'aspettava e l'ha vinto anche alla grande forse perché il real madrid ha puntato troppo sulla champions e però alla fine il real madrid si è portato a casa alla coppa di spagna secondo posto teorico comunque la qualificazione alla champions vedremo se sarà sufficiente per ancelotti per rimanere anche l'anno prossimo alla guida del real madrid o se decideranno di chiamare qualcun altro detto questo io vi saluto vi ringrazio e adesso vado a fare il campionato italiano ciao